Ciao a tutte e bentornate e ciao a tutti bentornati. Oggi una nuova lezione dedicata all'arte preistorica, l'arte delle origini. Cosa si intende con arte preistorica? Si tratta di pitture parietali, quindi su parete, scoperte in luoghi sparsi per tutto il mondo e risalenti ad un periodo compreso tra il 40.000 e il 10.000 avanti Cristo, che in storia è denominato paleolitico superiore. Qualche cenno storico giusto per inquadrare dove siamo, cosa facciamo, eccetera. Durante il paleolitico superiore sappiamo che l'homo sapiens è bella meglio su tutte le altre specie umane. All'epoca le popolazioni erano nomadi, quindi non risiedevano in pianta stabile in un punto preciso, ma si spostavano continuamente. Inoltre per sopravvivere cacciavano, e quindi ecco perché spesso si muovevano, la ricerca delle mandrie di animali, e raccoglievano anche frutte, bacche, tutto ciò che era necessario per la loro sopravvivenza. Curiosità. È probabile che prima di dipingere su parete, l'uomo primitivo si dipingesse il corpo, una specie di body painting, no? E che poi solo successivamente si passano ad utilizzare i colori su parete. Pensiamo ad esempio alle tribù dei posti più dispersi del mondo, come ad esempio l'Africa o l'America centrale, che ancora usano dipingersi il corpo durante riti o momenti di preghiera. Sappiamo che le prime forme di pittura sono stencil di mani e punti che sembrano astratti, punti di colore che sembrano astratti, cioè non hanno delle forme precise, non riproducono nulla di specifico. Sembrano apparentemente senza senso, ma probabilmente hanno un senso soprattutto legato a motivi di derivazione magica. Successivamente alle mani e a questi punti di colore astratto si iniziano a dipingere animali. Il fatto di dipingere l'animale pare fosse a scopo propiziatorio, cioè l'uomo primitivo che passava la notte all'interno della grotta XY eccetera dipingeva sulla parete delle mandri di animali perché si immaginava che questa cosa potesse portare di fortuna l'indomani. Tanti animali raffiguro stasera, tanti riuscirò a catturarne domani. Successivamente agli animali piano piano inizia a comparire anche la figura umana che viene raffigurata mentre intenta svolgere le sue mansioni quotidiane che appunto ruotavano per lo più attorno ad azioni legate alla propria sopravvivenza e quindi parliamo di caccia e di raccolta bacche e frutta oppure anche momenti legati alla celebrazione di riti e quindi comunque momenti di culto. Andiamo nello specifico ed analizziamo due dei grandi luoghi che rappresentano l'arte preistorica in Europa che sono stati scoperti e questa secondo me è la cosa interessante, è il taglio che ho voluto dare alla lezione da due bambini o meglio Maria era una bambina e Marcella era un pochino più grande. Vediamo cosa hanno scoperto e perché. la prima scoperta di cui voglio parlarvi è perché la colloco per prima in ordine proprio cronologico è la scoperta della grotta di Altamira. Abbiamo questa bella screenshotata di Google Maps è sempre cosa buona e giusta far capire ai ragazzi dove siamo. Altamira zona settentrionale della Spagna siamo nei pressi della città di Santander. La scoperta risale al 1879. La curiosità è roba da bambini. È stata proprio la figlia di un archeologo dilettante tale Marcelino de Sautuola che scoprì nei pressi appunto di un luogo nel quale appunto il padre aveva iniziato a scavare alla ricerca di qualcosa. Fu proprio la bambina che scoprì le prime, le primissime pitture che decoravano l'interno della grotta ad Altamira. Pare che ad un certo punto per richiamare l'attenzione del padre iniziò ad urlare a gran voce di raggiungerla perché aveva visto dei tori. Ho voluto mettere tre curiosità circa le grotte di Altamira perché le ho ritenute interessanti e mi piace sempre mettere qualche tips, qualche curiosità perché trovo che tengano sempre viva l'attenzione dei ragazzi in classe. Allora la prima è che si dice le grotte ma in realtà è una grotta unica, le grotte perché sono costituite da una serie di cunicoli e gallerie e corridoi per cui sono articolate, poi sono composte da diverse sale, ok? Si estendono per circa 270 metri di profondità. La seconda curiosità è che queste grotte si sono preservate così bene perché il caso vuole che 13.000 anni fa circa una frana ne copri l'ingresso preservando quindi perfettamente le pitture al suo interno. Questa conservazione fece emergere qualche dubbio quando il Sautuola denunciò la scoperta proprio a causa della loro elevata qualità artistica e dell'eccezionale stato di conservazione di queste pitture, il papà di Maria venne accusato di truffa. Ho letto qua e là su internet che ci fu addirittura un contadino della zona che disse che fosse stato il Sautuola stesso a realizzare quei dipinti proprio per... a scopo proprio di... cioè per ingannare le persone anche se mi meraviglia che qualcuno ci avesse creduto questa storia. Comunque, l'interno presenta la raffigurazione di diversi animali, vedrete che torneranno spesso le immagini di bisonti, stambecchi, cavalli, in alcuni casi gli uri, che è una specie bovina in via che ormai è estinta. La particolarità di Altamira consiste nel fatto che abbiamo, guardate questo motivo, spiraliforme nell'immagine di destra in basso, nell'angolo in basso, e la presenza di impronte di mani realizzate sia in positivo che in negativo. La forma a spirale è probabilmente legata a motivi di derivazione magica, anche se nello specifico non si è certi. Invece, per quanto riguarda l'impronta delle mani, era un po' un modo di segnare il passaggio in quel punto. All'epoca non si facevano le firme, pensate quando magari adesso andiamo nei luoghi di grande interesse storico-artistico, dove soprattutto i ragazzini, mi auguro che questa cosa non avvenga mai più, vi prego, deturpano il luogo stesso con delle iscrizioni. È un modo per far sapere di essere stati lì in quel momento, tanto è vero che si mette la firma e la data. Ecco, l'uomo primitivo faceva più o meno lo stesso con l'impronta della mano. Ma la cosa più affascinante di queste grotte di Altamira è che solo posizionandosi accovacciati o comunque sdraiati, queste possono essere viste chiaramente. Ma perché? Perché lo spazio è ristretto e solo due persone alla volta possono entrarci. La cosa importante da dire, ragazzi, è questa, che non è che io scopro una grotta e subito all'interno, cioè subito all'ingresso, dove c'è l'apertura, ci sono le pitture. No, perché gli uomini primitivi andavano in là perché dovevano magari trascorrervi la notte all'interno della grotta e quindi non stando all'apertura, cioè si andavano a rifugiare in luoghi in cui fossero maggiormente protetti dall'attacco di animali feroci che magari di notte potevano venire a dar fastidio e dove in teoria potevano stare un pochino più al caldo e al riparo dalle intemperie. Ma torniamo un attimo sul discorso del fatto che solo posizionandosi accovacciati o sdraiati queste possono essere viste chiaramente, proprio perché sono al di sopra su una parete. È un po' come se ci trovassimo all'interno di una chiesa e ne ammirassimo il soffitto interamente decorato. Ecco il motivo per cui queste grotte di Altamira sono state ridenominate la Cappella Sistina della Preistoria. È sempre cosa buona e giusta far vedere ragazzi che la Cappella Sistina è questa. Loro ancora non l'hanno studiata, se non magari qualcuno che già ci è stato a Roma perché l'ha visitata, con i genitori eccetera, e che quindi l'ha già vista, può darsi che è in più questo collegamento sfugga. Ecco quindi gliela facciamo vedere la Cappella Sistina che si trova alla città del Vaticano, a Roma, realizzata da Michelangelo tra il 1508 e il 1512. Voglio dirvi una cosa prima di passare alle grotte di Lascaux, che mi sono dimenticata, nell'ultima delle curiosità che vi ho già detto, il fatto che se inizialmente Sautuola viene accusato di truffa, successivamente grazie anche ad alcune scoperte che si fecero nella zona, queste andarono ad avvalorare la veridicità di queste pitture. Ecco quindi che poi la grotta di Altamira iniziò ad essere considerata come punto di interesse storico-artistico anche da tutta la società di archeologi e di storici dell'epoca. Tant'è che insieme alle altre grotte di cui vi andrò a parlare, così come in finale ci sarà un plus, non voglio spoilerarvelo, sono ovviamente comprese tutti questi luoghi di cui vi parlo oggi all'interno della lista UNESCO del patrimonio mondiale dell'umanità. La seconda è la grotta di Lascaux, dove siamo? Siamo nella Francia sud-occidentale, nella regione della Dordogna, vicino alla cittadina di Montignac. La scoperta qui risale al 1940, quindi sono gli anni della seconda guerra mondiale, se Altamira la scopre Maria all'epoca bambina di 9 anni, qui parliamo di tale Marcel Ravida, che all'epoca di anni ne aveva 19. Sono tutte scoperte che vengono per caso. Tra l'altro pare che l'apertura la scoprì il cane di Marcel. I due erano andati a passeggiare, come facciamo anche noi oggi con il nostro cagnolino per le vie sotto casa. Marcel evidentemente andò in questo posto dove c'era l'apertura di questa grotta. Fatto sta che qualche giorno dopo ci porta anche gli amici, che all'epoca avevano tutti tra i 15 e i 19 anni. Cosa fanno questi ragazzi? In modo un po' parecchio pericoloso, iniziano ad allargare l'apertura e Marcel si fa calare sul fondo di una vera e propria caverna. Tra l'altro si fa calare per ben sei metri. Cosa assolutamente da non replicare, diciamo le ragazzi, non si fanno queste cose. Se dovesse mai succedere che ci troviamo in un punto in cui ci sembra di aver fatto una super mega scoperta, allertiamo gli adulti e non facciamoci assolutamente calare da nessuna parte. Quindi una volta che si fa calare in questa buca, alla luce di alcuni fiammiferi intravede alcune bellissime pitture. Il giorno dopo i ragazzi tornano muniti di lanterne e scoprono una quantità incredibile di raffigurazioni animali. Bene. La curiosità che più mi ha sbalordito è questa, perché i ragazzini nella loro ingenuità volevano tenersi la scoperta tutta per loro. In realtà la notizia era così grande che non poteva essere tenuta nascosta per molto tempo, tant'è che gli archeologi furono allertati in un battibaleno e nel giro di pochi giorni arriva sul luogo padre Bruy, un noto abate che insegnava al Collège de France, un istituto universitario prestigioso della zona e che era un esperto di preistoria, che quindi non si poteva far scappare questa occasione. Va sul luogo e resta bocca aperta di fronte a quella che tutt'oggi è la raffigurazione più grande di un animale di quel periodo, e cioè al bisonte disegnato su una parete di ben oltre 5 metri. Il bisonte in questione è questo. Chiaramente l'autore è ignoto, si suppone che sia stato realizzato circa attorno al 15.000 a.C. È strabiliante pensare che abbia tutti questi anni una pittura murale che per quanto sia estremamente semplice, tuttavia io trovo che sia enormemente evocativa dell'animale stesso proprio perché ha tutto ciò che dovrebbe avere un bisonte, nonostante la rapidità del segno e appunto la purezza, la semplicità. Questo è un collage di alcune delle immagini che ho trovato sul web e che fanno riferimento proprio a quello che si può vedere all'interno delle grotte di Lascaux. Anche in questo caso, così come Altamira, voi trovate scritto grotte ma in realtà è una grotta unica costituita da diversi cunicoli e gallerie, corridoie, sale, eccetera. All'interno sono raffigurati oltre 600 animali, tra questi cavalli, vacche, stambecchi, orsi e uri di cui vi ho parlato anche prima. Per la ricchezza delle figure presenti, questo complesso di grotte può considerarsi a pieno titolo come un vero e proprio museo naturale di arte parietale, chiaramente preistorica. Prima di dirvi le caratteristiche generali, vi ricordo che sia Altamira che Lascaux sono inserite all'interno dei beni patrimonio UNESCO. A livello generale possiamo dire che l'arte preistorica ha queste quattro caratteristiche principali. Il fatto di essere collocate all'interno di grotte, poiché queste servivano da riparo, almeno fin tanto che le popolazioni erano nomadi, e quindi come vi dicevo trovavano una grotta, decidevano di fermarsi per la notte e l'indomani mattina ripartire alla ricerca delle mandre di animali da cacciare per sopravvivere. La seconda caratteristica è che riproduce per lo più figure di animali, proprio perché questo si pensava fosse propiziatorio, che portasse fortuna nei termini della caccia. La tecnica si tratta di incisioni e pitture con colori di derivazione naturale, e poi andremo a vedere meglio nello specifico nella prossima slide. Lo stile. Gli animali sono sempre visti di lato, quindi di profilo, e sono chiusi da una linea rapida. Il disegno è poco elaborato, tuttavia molto naturalistico ed evocativo, così come abbiamo visto per il bisonte di Lascaux. In questa slide io mi sono permessa di screenshotare proprio così amabilmente un approfondimento dal sito di didatticarte.it, che sicuramente seguirete perché è uno dei maggiormente forniti, uno dei più completi, dove appunto si parla di colori e tecniche di pittura preistorica. È interessante il fatto che il marrone, il rosso, il giallo e il bianco provenissero per lo più dalle terre o da minerali, mentre invece il nero è ricavato dal carbone e dalla fuligine ottenuti dalla combustione della legna. Ecco quindi che tutti gli animali hanno questa linea di contorno nera che appunto deriva da questo carbone e dalla fuligine. Come dipingevano? Per lo più utilizzavano le mani, il colore veniva spalmato sulla parete con le dita dopo averlo mischiato con delle sostanze fluidi come ad esempio la saliva, il sangue degli animali stessi o il grasso dell'animale o anche con dell'acqua. Oppure si usava direttamente il minerale, nel caso ad esempio del marrone, sulla pietra. Oppure utilizzavano anche pennelli, chiaramente pennelli realizzati con rametti che potevano vedere al loro termine il rametto sfilacciato oppure addirittura realizzato con ciuffi di pelliccia di animale. Molto interessante la tecnica della soffiatura attraverso la bocca. Si pensa che la maggior parte degli stencil delle mani che si trovano sulle pareti di queste grotte siano state realizzate proprio in questo modo. L'immagine dell'uomo appunto con la mano poggiata sulla parete che soffia dalla bocca che cosa? Un misto di colore unito a saliva. Si faceva anche questo. Attenzione, lo specifico perché si sa mai che bello, prof, andiamo in gita. Non si può andare a vedere le grotte originali poiché queste sono chiuse per motivi di conservazione delle pitture. Ciò che oggi si può visitare sono delle repliche che sono state costruite apposta a pochi metri di distanza dal sito naturale. Qui il pubblico può scoprire questo patrimonio storico di cui appunto abbiamo appena parlato garantendo la preservazione della grotta originale. Perché? Perché trattandosi di pitture parietali realizzate con colori di derivazione naturale sono essi stessi di natura organica e quindi di per sé molto delicati, estremamente delicati. Vi basti fare il paragone con l'ultima cena di Leonardo da Vinci che si trova nel refettorio della Santa Maria delle Grazie a Milano che è visitabile solo a gruppi di massimo 15 persone e non è consentito sostare all'interno della sala per più di 15 minuti e tra l'altro prima di entrare si passa attraverso un sistema di pulizia diciamo degli individui un po' per purificarli, togliergli tutto ciò che potrebbe essere dannoso per la pittura stessa prima di entrare appunto a godere della meraviglia di Da Vinci. E io questa ve l'ho voluta aggiungere e quindi questa secondo me è una super chicca perché può darsi che magari nelle scuole in Lombardia ne parlino visto che comunque appartiene al loro territorio però nello specifico appartiene all'Italia porca vacca, scusate mi è sfuggito un porca vacca perché sto parlando delle incisioni rupestri della Val Camonica. È vero siamo in Lombardia ma siamo pur sempre in Italia e anche questa zona, quest'area è inserita all'interno della patrimonio, della lista dei beni considerati patrimonio dell'umanità, lista stesa dall'UNESCO. Ok quindi la nostra bella screenshotata di Google Maps dove siamo in Lombardia quindi in Italia settentrionale. La primissima incisione fu scoperta da tale Walter Lang nel 1909, il primo masso inciso. La straordinarietà di questo luogo sicuramente consiste nel fatto che si tratta di incisioni che si estendono su di un'area estremamente vasta e che sono veramente tantissime. Le incisioni rupestri sono segni intenzionalmente ricavati dall'uomo su superfici rocciose. Non ci è dato sapere se fossero anche dipinte come è per alcune pitture parietali trovate all'interno delle grotte che vi ho precedentemente illustrato. Perché non ci è dato sapere? Perché tutte le incisioni della Val Camonica sono all'aria aperta quindi sottoposte continuamente ai fenomeni meteorologici. Quello che resta oggi sono incisioni realizzate specialmente su rocce orizzontali o lievemente inclinate. Pochi esempi su pareti verticali. Mi perdonerete per la pessima qualità dell'immagine che ho screenshotato sempre da sito di didattica arte tra l'altro. Due tecniche principali prevede l'incisione. La prima percussione che è quella dell'uomo a sinistra che batte sulla superficie con degli strumenti di pietra o di metallo. La seconda è l'incisione a graffito ottenuta graffiando le superfici con strumenti appuntiti di pietra o di metallo. La Val Camonica è uno dei giacimenti di arte rupestre più conosciuti nel mondo perché come vi dicevo prima perché è il più ricco per quantità. Si tratta di oltre 300.000 incisioni attualmente note e il numero va progressivamente aumentando perché è il più ampio per cronologia. Andiamo dal 12.000 a.C. al 100 d.C. che è l'anno in cui arrivano i romani nella zona ed è il più vario per temi proprio perché copre questo arco temporale così ampio riflettendo quindi cambiamenti culturali e naturali del territorio. Quindi volendo fare un viaggio temporale attraverso queste varie incisioni vediamo che le prime raffigurano l'uomo impegnato nelle operazioni quotidiane come ad esempio a caccia nell'immagine di sinistra dove vediamo un uomo diciamo così a cavallo anche se chiaramente le dimensioni delle figure non sono le dimensioni giuste. Il cavallo vedete sempre di profilo l'uomo invece visto di fronte e l'uomo rappresentato nei momenti di culto nell'immagine appunto di destra questi omini bellissimi a braccia alzate che tanto mi ricordano i radiant boy di catering. Non vi ho messo la slide perché mi è venuto in mente adesso mentre ve ne parlavo. Potrebbe essere interessante inserirla. I camuni erano una popolazione inizialmente dedita solo alla caccia e alla raccolta di bacche frutta eccetera successivamente quando iniziano a risiedere in pianta stabile in quella zona è chiaro che iniziano anche a dedicarsi all'agricoltura e questa incisione raffigura proprio un momento della vita nei campi. L'aratro trenato da una copia di cavalli è super interessante anche vedere come era prima l'animale visto di profilo e l'uomo invece visto di fronte anche in questo caso questo gioco di prospettive che sarebbe tanto piaciuto magari che ne so ai nostri amici cubisti al nostro Cézanne in cui abbiamo l'aratro visto dall'alto e invece i cavalli visti di profilo. Quando iniziano a stare in pianta stabile iniziano anche a raffigurare i loro villaggi le loro abitazioni ecco quindi che compaiono le prime palafitte come vediamo qui in questo caso trattasi di tre palafitte scorgo la figura di un uomo sempre a cavallo e questo è una bellissima e preziosissima testimonianza della nuova condizione di stabilità che la civiltà camuna stava assumendo. poi ho voluto inserire anche questa curiosità perché i riferimenti al contemporaneo devono sempre esserci secondo me per rendere appetibile la lezione ai ragazzi delle medie. Allora a sinistra l'incisione camuna. A destra l'immagine di una bandiera verde che ha la riproduzione appunto di questa incisione di epoca camuna. Perché? Innanzitutto che cos'è e perché? Vediamolo insieme. questa è la rosa camuna che deriva il suo nome dalla somiglianza con un fiore. La ritroviamo spesso nelle raffigurazioni delle incisioni rupestri della valcamonica. Perché venisse rappresentata non ci è dato saperlo. Si possono fare diverse supposizioni. Qualcuno dice che si tratta di un astrale e quindi un simbolo che richiamerebbe il sole o la luna. Qualcun altro parla di uno strumento musicale. Qualcuno addirittura azzardato che fosse un gioco con le pedine che amavano fare i camuni. Fatto sta che l'immagine più nota, perché io purtroppo in Valcamonica non ci sono stata. Se qualcuno di voi c'è stato e me lo può confermare o magari conosce meglio questo mondo delle incisioni rupestre della valcamonica, proprio un mondo perché caspita più di 300.000 incisioni. Sul web ricorre sempre, 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 sempre questa immagine. La rosa camuna e attorno figure maschili con testa di animale. Sembrerebbe la testa di un volatile, di un uccello. Quindi figure maschili che hanno sulla testa un copricapo. Mi viene da pensare a degli sciamani che sembra che stiano ballando. Quindi magari siamo in un momento di culto, è un rito propiziatorio per la caccia del giorno successivo, mi viene da pensare, visto che ci sono anche delle figure di animali. E quindi la rosa camuna potrebbe essere simbolo di fortuna. Ecco perché spesso viene rappresentata. E quindi oggi la ritroviamo come simbolo della storia della regione lombarda, appunto sulla bandiera regionale della Lombardia. E chiudiamo il cerchio. Il laboratorio che propongo è un laboratorio che può sembrare estremamente semplice. In realtà, siccome sarà uno dei primi che farete insieme alle vostre classi, sì è semplice ma non tanto. Cioè sarà un modo innanzitutto per conoscersi, facendoli magari collaborare insieme e per capire come si destreggono i ragazzini con i pennelli e con la creatività in generale. Questa è una foto del lavoro terminato e sono i prototipi che ho realizzato io da proporre alla classe. A breve arriverà il video su come realizzarli. Quindi non perdetevi il prossimo contenuto perché sarà proprio questo. Vi ringrazio, vi ricordo che per supportarmi sarebbe cosa buona e utile iscriversi al canale per restare sempre aggiornati ovviamente. Andate a guardare anche il blog con tutte le lezioni scaricabili con pdf gratuiti. Mettete un like e condividete con chi secondo voi potrebbe apprezzare o a chi secondo voi potrebbe essere utile questo tipo di video. Vi ringrazio, buona giornata e buon lavoro a tutti, tutte. Ciao!